Ben trovati, come accrescere la nostra fede è la domanda che abbiamo ricevuto in questi giorni in redazione e non è una domanda facile, come accrescere la nostra fede? Cerchiamo di sentire quello che ci dice Gesù attraverso la sua parola nel capitolo 17 di Luca, in quel tempo gli apostoli dissero al Signore accresci in noi la fede, come vedete non siete gli unici, anche i discepoli chiedono la stessa cosa, il Signore rispose se aveste fede quanto un granello di senape potreste dire a questo gelso sradicati e vai a piantarti nel mare ed esse vi obbedirebbe, chi di voi e se ha un servo insomma e poi continua così, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Allora la richiesta mi sembra legittima, non solo nel nostro tempo ma anche vedete anche gli apostoli, i discepoli l'avevano fatta Gesù. Non è facile capire come accrescere la nostra fede e anche la risposta di Gesù è un po' misteriosa, lui ci dice se avete fede quanto un granello di senape potreste dire sradica questo, insomma fai qualcosa di importante. Io credo che Gesù attraverso questi esempi vuole semplicemente dire che dobbiamo avere una grande fiducia, la fede e potremmo mettere fede uguale fiducia ed è quella la cosa più difficile perché certe volte diamo più fiducia alle persone che sono esseri limitati che a Dio stesso, forse perché non lo vediamo, forse perché facciamo fatica a incontrarlo. Comunque diamo una grande fiducia, certe volte quasi assoluta a una persona che poi ci delude e rimaniamo male e invece non diamo fiducia a quest'essere che è Dio, che è l'amore, che ci chiama, che ci chiede di avere fiducia in Lui. Il nostro rapporto con il Signore è un rapporto di libertà e essenzialmente è questo. Io devo decidere e accettare di dargli fiducia finché io rimarrò sempre così esitante in questa relazione non potrò mai costruire e accrescere la mia fede. Allora questa fedeltà la devo sentire perché se credo realmente che Dio è amore non dovrei avere paura, invece noi siamo pieni di paura, la nostra società è piena di paura e facciamo fatica allora a dire sì, Lui mi ama davvero, Lui è l'unico che mi può amare veramente, pienamente quello che sono. Allora però a parte questo bisogno di accrescere anche la nostra volontà per accrescere la nostra fede, dobbiamo anche credo avere bisogno di, abbiamo anche bisogno di chiedere aiuto al Signore per accrescere la nostra fede. È lì in cui entra la preghiera. Noi non possiamo dire ah io faccio fatica a creare una relazione con Dio se poi io non mi metto mai in preghiera, non cerco mai questa relazione con Dio. Non posso aspettare che Dio venga a me se io non provo anche ad andare verso di Lui. Lui gli fa questi tentativi, Lui ha mandato il suo figlio, Lui ha cercato in tutta la storia della salvezza di avvicinarsi all'uomo, ma poi è anche l'uomo che deve rispondere a questa chiamata del Signore. E allora Lui ci ha promesso che sarebbe stato sempre con noi. A questa promessa cosa noi rispondiamo?